Al Circolo Artistico di Arezzo viene promossa una bella mostra dal titolo Aretini alla Grande Guerra, un'iniziativa molto interessante promossa dal Rotary Club Arezzo Est. Siamo con Carlo Cigna. Innanzitutto, come il Rotary ha deciso di promuovere un'iniziativa come questa? Il Rotary Club Arezzo Est, presieduto da Mario Scilla, quest'anno ha ritenuto un denave delle iniziative che ha promosso, che sta promuovendo, di organizzare e favorire questa mostra sulla Grande Guerra proprio in occasione del centenario della traslazione della Salma del Militegnotto da Aquileia a Roma. Pochi giorni fa ad Arezzo è passato il treno che portava una bara simbolica. Ecco, questa mostra ci fa vedere quello che erano i nostri cittadini dell'epoca che hanno combattuto in una Grande Guerra, dal 15 al 18, tutti giovani, come potrete vedere dalle immagini e fotografie. Fotografie che sono state raccolte dal dottor Pier Mario Bevino, veramente un'opera certosina, molto importante, perché spesso si fanno mostre, ma questa è proprio specifica su Arezzo, sugli aretini e su coloro che abitavano anche le vallate circostanti. E quindi penso che farà piacere a tutti poter vedere, poter riconoscere forse qualche nonno o addirittura qualche bisnonno che in quella guerra ha perso anche la vita, perché molti di questi personaggi qui rappresentati non sono tornati nella propria terra perché sono caduti sul campo. E quasi con commozione, che quando l'abbiamo montata, noi guardavamo insieme al dottor Rinnovati, che insieme a me ha voluto questa mostra, quando guardavamo queste fotografie in fase di predisposizione, c'è stato qualche momento anche di commozione, perché abbiamo anche riconosciuto qualche personaggio. Io personalmente, che ho una certa età, qualcuno di questi personaggi io l'ho conosciuto, anziani, ma l'ho conosciuto. Ecco, e rivederli qui su queste pareti è un qualche cosa che non solo ci commuove, ma ci dà quel senso di appartenenza. La nostra città deve essere onorata di avere questa mostra, perché è la memoria. La memoria storica non può essere persa, ma deve essere tramandata. Quindi io ritengo che ora il dottor Bevino vi potrà essere più preciso anche sul modo e come ha raccolto tutte queste fotografie. Un'altra domanda, sempre per legarci un po' a quella che è la storia di Arezzo. è legata a una scoperta che gli aretini potranno vedere passando a visitare questa mostra all'interno del circolo artistico aretino. Si parla di un altro tempo storico, un po' più addietro, ma è una bella scoperta anche questa. Sì, molti anni fa, quando ero presidente del circolo, volevamo impiantare un ascensore, allora facemmo dei saggi. E nel fare i saggi sul piantito trovammo questi mosaici, i mosaici romani. Sul momento non potevamo realizzare quello che ora potrete vedere, perché indubbiamente aveva un costo, ma fortunatamente, successivamente, sotto la presidenza del dottor Calvelli, è stato possibile scoprire e coprire con queste lastre di vetro questo piantito che veramente risale all'epoca romana, sono mosaici, mosaici che già abbiamo visto in altre parti della nostra città più alta e sono veramente importanti. E poi c'è anche un pozzo mediovale. Ecco, questo dimostra la storia di Arezzo, le fasi della storia di Arezzo. Quindi anche questo è qualcosa che è opportuno che gli aretini conosce, perché fa parte della nostra storia, della nostra realtà. Siamo con il curatore della mostra, Pier Mario Bevivino. Innanzitutto gli chiediamo come è nata questa mostra, ma soprattutto come è arrivata questa ricerca comunque importante di queste foto. Sì, la ricerca è stata motivata anche da un'esigenza familiare, perché in casa nostra abbiamo avuto uno zio di 19 anni che è morto a Caporetta. Allora il mio babbo, il mio fratello, io ci siamo interessati alla Prima Guerra Mondiale, abbiamo fatto delle ricerche a Redi Puglia, a Oslavia, ma non l'abbiamo trovata. Allora la mia presunzione, come altre migliaia e migliaia di italiani, che questo ragazzo di 19 anni potrebbe essere stato il milite ignoto. È un po' troppo, un'esagerazione, però non guasta mai. Poi mi sono orientato nelle ricerche, soprattutto ho avuto una risposta entusiasmante da parte dei familiari, delle famiglie, e poi moltissimi documenti li ho trovati anche nell'archivio di Ocesano in piazza del seminario. Ci sono delle cose interessantissime. Il Vescovo si poneva come intermediario, insieme con la Santa Sede, fra l'Italia e l'Austria, perché questi due paesi cattolici erano belligeranti e non c'erano rapporti diretti. Allora le famiglie aretine scrivevano al Vescovo per avere notizie della sorte di questi parenti e moltissimi di loro, risultò poi, il Vaticano rispose con una lettera, moltissimi di loro erano stati rinchiusi nei lager austriaci e tantissimi morirono per tubercolosi, per malattie. La mostra è suddivisa in parte per criteri territoriali, secondo le vallate aretine, Valtiberina, Casentino, Valdarno e Valdichiana. E in parte anche per tematiche, cioè i medici aretini al fronte, i farmacisti al fronte, e anche, suddivisa anche per, come tematica, anche per bersaglieri, cavalieri, cavalleggeri. E sono venuti fuori delle cose interessantissime, perché ad Arezzo il fabbricone, i giovani non sanno neanche cosa sia il fabbricone, ma era una grossissima fabbrica che esisteva nel Parco Pertini. Qui si fabbricavano bombe e aerei della Prima Guerra Mondiale. E, diciamo così, in questa ricerca si è voluto mettere in evidenza alcuni aspetti, perché non tutti naturalmente morirono, alcuni furono reduci. Io ho delle testimonianze veramente commoventi, di persone che hanno avuto i nonni reduci, che gli raccontavano le vicende che avevano vissuto in guerra. E, in particolare, c'è una che effettivamente mi ha colpito moltissimo. La mamma del professor Paoletti ebbe una mattina a Cortona, erano residenti a Cortona, il maresciale dei carabinieri l'avvisò e dice «Signora, suo figlio è morto». Questa signora, dal carattere naturalmente molto forte, prese un calessino e in tre giorni da Cortona arrivò fino a Trento. Viaggiava notte e giorno. Arrivata sul posto, si chinò sulla bara del figliolo, sentì che gli batteva il cuore e allora lanciò un urlo e riuscirono questo ragazzo, perché era morto per spagnola, la spagnola era il Covid di cent'anni fa, e sentì che gli batteva il cuore, sicché urlò e tirarono fuori questo figliolo dalla bara e riuscirono a salvarlo. Purtroppo questa sorte, ho paura che a molti altri non sia capitata e molti siano stati sepolti vivi. Era una morte apparente, dava la spagnola. Riguardo questa mostra c'è anche un importante legame, non è stato scelto a caso il circolo artistico. Il circolo artistico conservava in una saletta un pochino obsoleta una bellissima lapide con una vittoria lata d'oro, dorata, su fondo nero, con l'elenco dei 23 giovani soci del circolo artistico che persero la vita nella Prima Guerra Mondiale. E naturalmente appartenevano tutti questi ragazzi, io li chiamo ragazzi perché avevano intorno ai 20 anni, appartenevano alle famiglie più in vista di Arezzo. E allora, dopo la Prima Guerra Mondiale, i soci del circolo artistico ritennero giusto che fossero ricordati questi loro amici, 23 amici che avevano perso la vita e fecero realizzare questa lapide molto bella. dopo negli anni è stata traslata perché era in una zona un po' poco frequentata e è stata messa invece proprio all'ingresso del circolo di modo che possa essere visibile a chiunque, al visitatore, ai soci che vengono più giovani, che non conoscono queste storie della Prima Guerra Mondiale. C'è un altro aspetto importante e curioso da ricordare. Ad Arezzo, in quel periodo, furono allestiti quattro ospedali militari per gli italiani feriti e erano ospitati anche prigionieri austriaci feriti. E erano uno in via Garibaldi, nella sede del Palazzo delle Caterinette, che erano state trasferite, un altro al convitto nazionale, il terzo in via Sassoverde nei locali dell'attuale Tevenin e il quarto, il vescovo di allora, Volpi, mise a disposizione, molto gentilmente, con molta magnanimità, i locali del seminario dove venivano ospitati appunto questi soldati italiani e austriaci feriti. Quando può essere visitata la mostra? La mostra sarà inaugurata domani sera, giovedì, alle ore 18, durerà una settimana e sarà visitabile il pomeriggio dalle 17 in poi. La domenica, invece, è aperta dalla mattina fino alla sera e quindi invitiamo, se qualcuno fosse interessato, a vederla con molto piacere. Noi siamo qui a disposizione, se c'è qualche particolare, qualche parente che possa suscitare qualche ricordo, siamo disponibilissimi.